Buonasera Coach, una partita possiamo definirla ordinata dai primi due set da parte di Mondo V, poi il terzo set di nuovo non profonda, possiamo definirlo? Diciamo che i primi due set non c'erano da combattere, siamo stati sul pezzo, un po' per qualche regalo da parte loro, un po' per delle cose buone che abbiamo fatto noi Poi purtroppo i due turni di servizio di Fabroni, il primo, il secondo set, ci hanno tagliato un po' le gambe Quindi quando vedi che per qualsiasi cosa fai, poi non la porti a casa, probabilmente il terzo set appena hanno strappato, siamo praticamente usciti al campo Peccato per il terzo set, però non succede Una partita comunque non si può aspettare facile sulla carta, insomma a settimana ci siamo allenati bene, il risultato forse era un po'... La cosa importante è quando le partite non sono facili e non avere strascichi poi in settimana Questa partita perderà in casa contro una squadra che ambisce a fare la promozione di Superlega, può succedere, quindi perdi i primi due set così ci sta Perdi anche del terzo non ci sta, perdi del terzo così tu fai a strappi, che era l'unica cosa che le vittorie Le partite ravvicinate non avvicinano sicuramente, vale per mondo vivale anche quelle altre squadre Ma è un alibi, è un'assoluta che ci siamo già tolto I problemi di lavoro, i problemi di logistica ce ne hanno tutti Quando c'è da avere il sangue negli occhi, ce l'hai di mercoledì come di domenica come di domenica, devi avere sangue Aspettiamo il risultato